Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con AC News, il notiziario che vi permette di entrare nel mondo dell'Arezzo Calcio e di rimanere costantemente informati sulle vicende della società e dei campionati. Apriamo l'edizione di oggi con uno sguardo subito all'attualità. Prosegue infatti la soppopera dei ripescaggi in serie B. Nella giornata di ieri è arrivata la tanto attesa sentenza del Tribunale federale nazionale primo grado della giustizia calcistica che ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Provercelli, Novara, Siena, Catania e Ternana contro il blocco dei ripescaggi in B. Il Tribunale federale in sostanza, scrive il collegio giudicante presieduto da Cesare Mastrocola, ritiene che le attività della FIGC che ha messo in atto per congelare il torneo di B a 19 squadre impedendo i ripescaggi pur di fronte alle domande presentate dai club non siano sindacabili sotto il profilo della loro legittimità dal Tribunale stesso. L'interesse che le società avevano perché la vicenda dei ripescaggi si concludesse, aggiunge il Tribunale, non può quindi trovare tutela in questa sede. I 5 club restano pertanto per il momento in Lega Pro dove hanno già cominciato a giocare lo scorso fine settimana. Tutto questo però senza restare ovviamente con le mani in mano, sebbene sia da scongiurare infatti l'opzione di ulteriori ricorsi, Catania, Novara, Provercelli, Siena e Ternana si stanno attrezzando per richiedere un maxirisarcimento danni nell'attesa di recuperare entro il mese di dicembre le tre giornate di campionato saltate in questo rocambolesco avvio di stagione. Sta intanto perdendo la pazienza il governo, il sottosegretario con delega allo sport, Giorgetti, potrebbe infatti decidere di attuare il decreto di riforma della giustizia sportiva attualmente in approvazione al Quirinale. Decreto che sarebbe dovuto entrare in vigore dalla prossima stagione ma che a questo punto potrebbe già valere per le controversie in corso. In questo caso, come affermato dallo stesso Giorgetti, nei giorni scorsi tutto sarebbe rimesso al Tar del Lazio che in una settimana si pronuncerebbe unificando tutti i procedimenti. Resta invece sospesa la posizione della Virtus Entella, club che ovviamente non mira al ripescaggio quanto alla riammissione nel campionato cadetto. Il collegio di garanzia del CONI ha infatti dato ragione ai Liguri in merito alla penalizzazione del Cesena, riammettendoli in Serie B nonostante l'opposizione della Lega supportata dalla FIGC e nonostante il club chiavarese abbia già debuttato in Lega Pro. A favore del ritorno in B dell'Entella si esprime sempre Giorgetti che non risparmia parole e taglienti. L'Entella ha diritto di giocare in B, noi non vogliamo entrare nel merito della formazione dei campionati ma il governo deve assicurare giustizia a tutti, cosa che l'ordinamento sportivo non è tuttora in grado di fare. Siamo gli unici con un campionato zoppo a 19 squadre, roba da tornei estivi. Ad essere invece in attesa in casa Maranto è il difensore Lorenzo Burzigotti, operatosi in seguito alla frattura della caviglia riportata in fase di preparazione poco dopo il suo arrivo all'Arezzo. Migliorano di giorno in giorno le sue condizioni fisiche, tanto che il difensore Maranto, 31enne, ha già cominciato a allenarsi con il gruppo. Sentiamo cosa dichiara nell'intervista realizzata da Riccardo Ciccarelli. La domanda iniziale con cui partire è quella relativa alla tua salute, ti chiedo come stai? Bene, sto riprendendo, ho iniziato già a fare degli allenamenti con la squadra e sono contento perché comunque si pensava potesse andare più per le lunghe, invece già sto bene, ho iniziato a correre e anche a calciare. Come vedi questo girone, quello in cui è stato inserito l'Arezzo? Un girone sì, un girone molto importante, con squadre forti che appunto sappiamo sono state grate per cercare di vincere questo campionato. Io credo che invece parlando dell'Arezzo è una squadra ottima, secondo me buonissima squadra, un mix tra giovani e vecchi che metterà il figlio da torcere a tutte le altre squadre. È chiaro che dovremo farci valere e non dare mai niente per scontato. Qual è secondo te un elemento chiave che caratterizza questa squadra? La grande voglia e l'entusiasmo da parte di tutti, proprio vedi i ragazzi giovani che appunto si affacciano anche a questa prima esperienza tra professionisti, che sono carichi e motivati e appunto mette a giocatori anche più esperti come Cutolo, Foglia, Luciani, che anche loro mettono proprio un entusiasmo e una voglia su ogni partita, su ogni allenamento proprio per trascinare questo gruppo. E questo può essere secondo me quell'elemento in più, proprio la voglia da parte di tutti, grandi e giovani, di dimostrare quel qualcosa in più. Si dice sempre, giustamente, che Arezzo dal punto di vista calcistico è una piazza importante. Da quello che hai potuto constatare a livello di città, di accoglienza, di tifoseria, qual è il tuo punto di vista? Per me chiaramente c'è Arezzo, la vivo quasi come a casa, sono stato qui anche due anni di primavera e ho visto l'entusiasmo che si è creato quando appunto c'era la Serie B, so quanto entusiasmo può crearsi attorno a questa squadra, in questa città e penso sia semplicemente una piazza bellissima che ti può veramente dare tanto. Quindi sta a noi creare quell'entusiasmo e portare veramente il massimo della gente allo stadio. Un mix tra veterani e giovani con grande entusiasmo e motivazione è quello che ha evidenziato anche Lorenzo Burzigotti all'interno della prima squadra a Maranto, pienamente in linea con l'idea di progetto triennale che è stato voluto dare dalla dirigenza del Cavallino, abbiamo conosciuto il difensore 31enne che presto vedremo anche in campo e con lui termina la prima parte di AC News, noi ci fermiamo per qualche secondo per la pubblicità, vi aspettiamo tra poco, restate con noi.